Cari amici benvenuti in questo video speciale in cui ci teniamo a ringraziare tutti voi per seguirci su Twitch il sito dove facciamo delle dirette in cui interagiamo insieme a voi, chiacchieriamo tutti insieme giochiamo a qualunque genere di gioco ci venga in mente e vi diciamo anche a volte delle cose in esclusiva quindi un ringraziamento speciale a tutti voi Grazie E vogliamo inoltre fare questa specie anche di video ringraziamento per ringraziare infinitamente le 11 fantastiche persone che sono diventate dei nostri subscriber, ovvero degli abbonati al nostro canale dandoci tutto il loro sostegno Grazie, grazie a tutti Grazie Siamo su Minecraft? Non è detto Forse, boh, chissà Nel frattempo potete dare un'occhiata a questo gioco, mappa, quel che è e indovinare che cosa c'è di strano e farci lo sapere nei commenti Ma nel frattempo che andiamo a girare vediamo un pochino di non morire magari, ecco e iniziamo a ringraziare tutti i nostri fantastici subscriber Mi sono incasciato, ok Ok, iniziamo Luigi Zangari Grazie Alle buri Grazie Ringraziamo anche TGL134 Grazie Noxic Grazie Guardate tra l'altro il mondo intorno a noi che sembra quasi abitato visto che c'è anche qualcuno Quasi, quasi Che cucina Ma noi non dobbiamo venire qui a provare i manicaretti di Giampancrazio No Ma dobbiamo scendere qui sotto per ringraziare Bouncing Cup Grazie E andiamo a non incastrarci nelle porte ma a continuare il nostro giro turistico perché all'interno di questa casa potremo dire un grazie a Beatrice Stiles Grazie E saliamo in soffitta per poter salutare e ringraziare Mickey DeMarco17 Grazie Davvero ci fa veramente piacere quindi cerchiamo di ringraziare tutte le 11 persone che adesso abbiamo disseminato in questa mappa Oh Byron961 Grazie Scendiamo giù Apriamo la porta giusta perché sono due proprio messe in modo da farmi impazzire Corri 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 Per superare questa piazza e ringraziare Domenico Grazie E ora addentriamoci nel castello per ringraziare le ultime due persone rimaste le abbiamo nominate in ordine cronologico di come si sono iscritte, abbonate al nostro canale Twitch Nekochan7 Grazie E per finire abbiamo anche ringraziamento a Aerial Orpheus 2 Grazie Questa è una specie di mappa una specie di mappa su un gioco che in realtà proprio Minecraft non è No Ma non è che possa veramente sembrare tanto altro eppure vi possiamo garantire che questo non è Minecraft se l'avete anche indovinato questo è Gary's Mod La famigerata Gary's Mod che ci avete consigliato 10 miliardi di volte Alla fine eccoci qua qui dentro abbiamo scaricato questa mappa che non abbiamo fatto noi ma secondo noi è veramente bellissima trarrebbe in inganno praticamente chiunque pensando che sia Minecraft e abbiamo deciso che potremo sfruttarla come l'isola dei nostri subscriber di Twitch quindi ogni volta se eventualmente altre fantastiche persone decideranno di iscriversi al nostro canale Twitch aggiungeremo i loro nomi qui dentro e di tanto in tanto faremo qualche video aggiornamento in cui passiamo qui dentro e ringraziamo naturalmente tutti sia le persone che sono già iscritti sia magari i nuovi subscribe speriamo vi faccia piacere come idea e aspettatevi prestissimo nostre nuove live su Twitch perché vogliamo veramente divertirci insieme a voi secondo noi sono veramente divertenti vogliamo impegnarci al massimo per riuscire ad avere una qualità migliore quello ve lo ricordiamo ci mancherà la fibra una volta che avremo anche la fibra possiamo fare delle live fantastiche naturalmente vi faremo un video apposito quando potremo avere anche quella ma nel frattempo ci sono anche tante assurdità che possiamo fare insieme e che è veramente un peccato perdersi perché la follia con noi è sempre imperversa come le pecore insomma quindi grazie di cuore a tutti i suscriversi grazie ancora a tutti grazie a tutti i follower di Twitch comunque siete oltre 4.000 quindi grazie a tutti grazie alle oltre 205.000 persone che ci seguite su YouTube siete meravigliosi non riusciamo neanche a immaginarvi da quanti siete 19.000 su Facebook cioè non potremmo dirvi abbastanza grazie però ve lo diciamo lo stesso quanto più possiamo ve lo diremmo anche 200.000 volte ma mi sa che non è il caso a cosa di farvi dire la nausea del mi piace se non mi piace fare super sun ce l'hai fatta davvero ce l'ho fatta grazie di cuore e alla prossima al prossimo video alla prossima live su Twitch con che bello ciao 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 ciao